musica 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 bene ragazzi io odio fare un jay musica si avete capito per questo video ci saranno un po moltissimi mi piace cioè mi piace musica 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 Ragazzi, lui, io ho fatto HappyWiz, HappyWiz l'ho fatto io, Omelette l'ho fatto io. Cioè, lui ha fatto... Omelette ed HappyWiz. E lui non si poteva provare a diventare famoso con i miei siti. Perché lui ha fatto i siti. Ginga, ginga, ginga! E non me ne ringrazia perché su Facebook ho chiesto all'amicizia, ho detto che... E io gli ho detto, vuoi... Ma guarda, adesso devo risorgere per vedere queste cose. Pensate che lui sia gentile, ma non è vero. Cioè, lui è gentile, ma non lo è. Quindi, un conflitto esistenziale... Ginga, ma... Io su Facebook ho mandato la richiesta, l'ho accettata. Ha detto, chi cazzo sei? Ha detto, quello che mi ha dato è più il Samu... Sì, ovviamente. E accetta l'amicizia, te comune, mortale. Sì. Sì. Il Samu... Che cazzo me ne fotte? Ha detto... Se dice ancora una volta... Lei c'è... Beh... No, parla. Eh, questo mi piace. Quando ti ho deciso di fare proprio un video su... Su 4J, perché io l'odio da morire. L'odia... Però... Ah, anche lui vorre... Anche io amo i sui video, ma l'odio. Che c'è il... Tra... Scusate un attimo. Google... Traduttore... Istis... Drit... D... S... H-C-H-I-S-T-S Ah, ok, ora ho capito. Perché anche se sono un po' geloso che ci portano ma che lettere... Nutelle, fammi Nutelle, ma a me non me ne frego un cazzo. Ha detto una parolaccia. Ti meriti un tag live. Winner, 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 winner. Dingoni! Mh... Ehm, cosa posso dire? Gesù palcetta affumicata!